nasce a castel di sangro il parco dei dinosauri l'inaugurazione il 15 luglio un viaggio nella preistoria arriva al sangro un parco con 30 esemplari di dinosauri a grandezza naturale mobili e sonori di ultima generazione che ne permetteranno la riproduzione di suoni e movimenti con attrazioni giurassiche didascalie e musiche che ricostruiranno le affascinanti atmosfere e ne racconteranno la storia all'interno di un'ampia aria verde recitata accanto al parco avventura tra piste ciclabili aree giochi attrezzate impianti sportivi sarà inaugurato sabato 15 luglio il jurassic sangro che accoglierà grandi e piccini fino al prossimo 15 settembre è motivo di soddisfazione essere riusciti a portare a castel di sangro per la prima volta quello che viene definito il parco più grande del centro sud italia che per due mesi accoglierà non solo gli appassionati dei giganti giurassici ma tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata speciale l'insegna del divertimento e della conoscenza dice il sindaco angelo caruso puntiamo a incrementare il turismo anche attraverso un viaggio nella storia nella preistoria continuando a rendere sempre più completa e dinamica la nostra offerta turistica così il sindaco e presidente della provincia dell'aquila caruso che sarà presente a taglio del nastro insieme alle istituzioni e associazioni locali per dare il via all'attrazione più originale dell'estate castellana